allora buongiorno a tutti oggi sono arrivato al capolinea di san lorenzo vicino a pescantina e infatti oggi oltre a fare il modena verona modena di nuovo come gli altri giorni il turno 608 ecco questa è la chiesa e niente un pullman che va abbastanza bene si tratta del 2226 il bus della my way per cui costruito in italia motore cambio automatico ecco qua 2226 ecco questo è tutto adesso ritorno di nuovo a verona e ancora una buona giornata ciao a tutti